Opera d'esordio del team, piccolo studio, Arise Simple Story è un'avventura che vuole raccontare e celebrare il cammino della vita, in un saliescendi di emozioni ed empatia. Attraverso il percorso intrapreso dal silenzioso protagonista, il gioco diventa una storia personale ed universale al tempo stesso, tanto delicata quanto intensa. Una tribù non meglio identificata, immersa in un mondo bucolico e antico, rende onore alle esequie di un anziano. La sua pira arde luminosa e le sue ceneri volano fino al limbo in cui si risveglierà prima di affacciarsi definitivamente verso l'infinito dell'aldilà. In questo spazio tra i due mondi, l'uomo ripercorre la sua vita in un crescendo di tuffi al cuore. Così comincia Arise, che articolato in dieci atti per circa quattro ore di gioco, ci prende per mano e ci conduce in un viaggio breve incredibilmente potente. A rendere unico il titolo è il messaggio che racchiude. Arise è un inno al potere dell'amore, alla forza del ricordo, alla nostra capacità di rimanere integri anche quando siamo a pezzi. Quella di Arise è una storia comune che, anche indirettamente, ci riguarda e ci coinvolge. A contribuire a questo processo è senza ombra di dubbio la direzione artistica, che dipinge un affresco fiabesco e silenzioso, un linguaggio universale così efficiente da toccare a più riprese le corde del cuore. L'esperienza accontenta a tutti i sensi, ad accompagnare questa esplosione di colori c'è infatti una delle colonne sonore più delicate e toccanti di sempre. Arise è una retrospettiva sull'esistenza. Il suo protagonista è un uomo che ha già vissuto la sua avventura, con le sue glorie e le sue disfatte, per ripercorrere la sua esistenza dall'infanzia fino agli ultimi ricordi e nel farlo dispiega di fronte a noi un'opera dall'incalcolabile carica emotiva. In Arise, oltre che con le memorie, giochiamo col tempo. Saremo infatti in grado di portarlo in avanti rapidamente, riavvolgerlo e congelarlo. L'anziano vaga, stanco ma deciso, tra le stanze dei suoi ricordi, rivivendoli a velocità alterne e in termini di gameplay questa meccanica si manifesta attraverso un mondo di gioco in continuo mutamento ed una fisica piegata al volere del giocatore. Con l'uso della levetta analogica potremo dunque controllare l'ambiente intorno a noi. Tronchink è tutta libera se stò spesi nel tempo, diventano ponti, mentre accelerare la formazione della neve sul terreno crea pendenze più dolci da scalare. E ancora, illuminare una porzione del mondo rivela piattaforme nascoste. A partire da queste logiche si sviluppano tutti i puzzle ambientali, confezionati per non interrompere mai i ritmi narrativi, eppure sufficientemente curiosi da richiedere qualche istante di riflessione. Tramite questo e elegante gameplay, gli autori si propongono come artigiani che amalgamano a dovere, forma e sostanza. Lo si intuisce anche dal posizionamento dei collezionabili, mai dispersivi o invasivi, che offrono una gradevole deviazione sul percorso guidato dell'avventura. Mettere insieme aiuterà a comporre una piccola raccolta illustrata che arricchirà e completerà la storia principale regalandole qualche sfumatura in più. Arise vuole prima di tutto trasmettere fortissime sensazioni attraverso il suo racconto. L'assenza di violenza si conferma una colonna portante dell'opera, dando forma ad un cammino sempre gentile anche nelle situazioni più critiche. I messaggi di Arise inoltre rompono la quarta parete con un'idea pensata per generare un momento di unione come quando nel corso della vita incontriamo qualcuno con cui condividere le emozioni. Il titolo raccoglie per un attimo l'eredità dello split screen e gli rende omaggio, offrendoci la possibilità di giocare con chi è accanto a noi. I due utenti controlleranno rispettivamente il protagonista e i poteri del tempo, imbastendo un'esperienza accessibile e adatta a tutte le età. L'avventura in compagnia di Arise dura poco, ma ha abbastanza da lasciare un segno. Complessivamente, il titolo risulta solido in ogni suo aspetto, con la sola eccezione per alcune sessioni platform, dove la telecamera fissa e qualche tinta troppo uniforme tradiscono la prospettiva e portano il giocatore a saltare nel vuoto una volta di troppo. Niente che i checkpoint accuratamente posizionati non riescono a risolvere, permettendo una fruizione del viaggio senza troppi fastidi. Arise e Simple Story è insomma un'avventura delicata e toccante. Breve ma intensa può essere la storia di chiunque. Un'altalena di emozioni confezionata con amore che vuole celebrare la vita con tutte le sue imperfezioni. La bellissima direzione artistica e la colonna sonora rendono il viaggio tra i più magici di quest'anno, un piccolo gioiello che nonostante qualche imperfezione brilla dunque di una luce sfolgorante.